Domenica prossima, 15 aprile, a partire dalle 9 al seminario Vescovile di Caltanissetta, si svolgerà un convegno organizzato dall'Azione Cattolica Nissena in occasione del 150esimo anniversario dell'Associazione. Titolo dell'incontro, Luigi Di Forti, passato, presente e futuro, 150 anni di azione cattolica. Il ricordo del San Cataldese Di Forti invita gli uomini, le donne e i ragazzi dell'Azione Cattolica di oggi a riflettere su questioni come la priorità della dimensione spirituale, la missione formativa, la spiritualità coniugale, l'impegno nella Chiesa e per la città, la necessità di comprendere i segni dei tempi nell'ambito culturale, economico, sociale e politico. Saranno presenti all'incontro il vicario episcopale Giuseppe Laplaca, Rocco Gumina, Luigi Bontà, Salvatore Barone, Marinella, Lovetri e Giuseppe Mammano. Previste attività ludiche e formative, oltre all'esibizione delle allieve della scuola di danza Scarpette Rosse, con una rappresentazione intitolata Un sì tra le dita. Nel pomeriggio, prima della passeggiata verso la cattedrale, dove a partire dalle 17 il vescovo della diocesi di Caltanissetta, Mario Russotto, celebrerà la Santa Messa, i giovani dell'Azione Cattolica Nissena presenteranno uno spettacolo legato alle tematiche della giornata. La manifestazione è aperta all'intera cittadinanza.